Sfilate allegoriche, giochi ed animazione per bambini, la corrida, musica in piazza e tanto altro ancora, rappresenteranno il mix di divertimento e spettacolo della terza edizione del Carnevale a Modo Nostro, in programma a Castellabate dal 6 al 9 febbraio. Gli eventi allegorici sono organizzati dal Comune di Castellabate in collaborazione con il Forum Giovanile e le associazioni Proloco Santa Maria, Proloco Castellabate, Vivi San Marco, Cresciamo Insieme, Marina Piccola, Raffaele Tortola, Pescatori. Si parte sabato pomeriggio 6 febbraio a San Marco con il raduno alle ore 14 e 30 su via Don Peppino Passarelli, nei pressi della Torretta, da cui partirà alle ore 15 la sfilata in maschera fino a Piazza Comunale, dove alle 16 ci sarà animazione per bambini. Domenica 7 febbraio la festa si sposta a Santa Maria, dove alle ore 10 in Piazza Lucia sono in programma diversi giochi per i bambini. Nel pomeriggio alle ore 14 e 30 raduno delle maschere presso la piazza di Punta dell'Inferno, da dove partirà la sfilata che raggiungerà nuovamente Piazza Lucia. Qui il divertimento continua alle 16 con l'animazione per i bambini e con giochi anche per gli adulti. Alle 17 e 30 spazio alla musica, sempre in Piazza Lucia con la band Pepperoni. Nel giorno di carnevale 9 febbraio si riparte alle ore 10 in Piazza Lucia con animazione e giochi per bambini. Alle ore 14 e 30 gli stessi giochi si svolgeranno presso la piazza 10 ottobre 1123 a Castellabate Capoluogo. Alle ore 15 inizierà invece la sfilata da bivio per la frazione Alano a Piazza Santa Rosa, dove continuerà l'animazione per i più giovani. Alle ore 17 esiterà invece la corrida che chiuderà il programma degli eventi allegorici. Abbiamo accolto subito le proposte del forum giovanile e delle varie associazioni locali, spiega il sindaco Costabile Spinelli, per la realizzazione di tre giorni all'insegna del divertimento e dello spettacolo. Sono previste diverse iniziative che coinvolgeranno grandi e piccoli ed abbracceranno le varie frazioni del nostro territorio comunale.